Oggi ci troviamo al giardino delle Ghiaie, giardino botanico dobbiamo dire, così era nato nel 1908 quando dalle saline, che era questa zona, ci fu messo delle piante da parte dello stabilimento Ilva come regalo alla città di Portoferraio. Il giardino è cresciuto molto bene, se pensate che queste piante che abbiamo qui davanti hanno quasi tutte oltre 100 anni, perché dal 1908 ad oggi hanno tutte oltre 100 anni diciamo che quando si dice che è trascurato, io non lo vedo tanto trascurato, ci sono delle cose forse che non vanno bene all'interno di un giardino botanico perché dovrebbe essere un giardino botanico riservato alle piante e ai visitatori che ci vanno dentro con delle panchine dove potersi sedere e tutto. Comunque quello che conta è che il giardino botanico abbia questi punti, queste aiole come questa e all'interno di questa non ci si calpesti, perché se le calpesti calpesti i piedi della pianta perché le radici sono i piedi delle piante. Questo per far capire come si dovrebbe tenere questo giardino bisogna sì cercare di mettere in ordine tutte le aiole e invece, poi lo diremo dopo quando andiamo dall'altra parte ci sono cose che sono state levate per esigenze di altro genere. Io voglio cominciare questa cosa che riguarda proprio il giardino della Iaia è con questa pianta, la pitolacca idiotica, che è una pianta conosciuta come albero a candelabrio. Vedete questi tre rami che salgono dritti? Questo è quello che ha dato il nome in italiano a questa pianta. è una pianta molto bella che fra l'altro si trova, ce ne sono molte nel Mediterraneo e si trovano sempre nei giardini botanici perché fuori dai giardini, cioè in campagna, le proprie foglie non sono buone per le bestie perché hanno delle cose diuretiche che non vanno bene. Questa è una pianta che cresce molto sul fondo questa non è cresciuta neanche molto perché si è mantenuta nel suo spazio ma ha i rami che arrivano a 20 metri come arriva in genere questa pianta ed è secondo me un esemplare bellissimo. Come ce ne sono tante altre piante qua dentro bellissime. Il giardino è comunque spoglio in alcuni punti perché ci sono delle piante che sono morte altre che sono state levate perché erano pericolose e vanno sicuramente sostituite. Il 21 di questo mese la festa degli alberi verranno piantate 40 piante che ha donato la fondazione Isola d'Elba che io rappresento qui come responsabile proprio dell'ambiente. Ora vediamo quali sono alcuni problemi di questo giardino. Questa è la zona più bella diciamo forse di tutto il giardino delle ghiaie anche perché è a tutte piante autoctone cioè piante dell'Elba soprattutto i lecci. Questo è il leccio forse uno dei tre più grandi che ci sono all'isola d'Elba. Gli altri ve le farò vedere quando facciamo l'elenco degli alberi perché questa è veramente una pianta esemplare. Cosa manca a questa pianta? A questa pianta manca la sua aiola come a tutti gli altri che sono state levate fuori per esigenze di altro genere. Infatti qui sotto si fanno cene si fanno feste. I giardini non sono nati per questo. I giardini sono nati e devono essere curate le piante e l'attenzione deve essere fatta alle piante perché alle piante altrimenti soffrono. Vedete qui le radici sono fuori la gente passa di qui e continua a calpestarne mentre questa dovrebbe avere una sua bellissima aiola. Ecco qui sono morte queste piante e forse il motivo che sono morte può essere anche dal grillo moro che entra all'interno dei lecci e questo leccio è morto come ne sono morti altri da altre parti e pertanto queste piante devono avere l'aiola e questo sarà cura del comune farlo e devono essere mantenute per bene senza farci delle feste qui dentro. Ora ritorneremo quando c'è la festa degli alberi per fare un altro servizio perché si riesca a far capire che questo giardino deve essere mantenuto come giardino botanico e deve essere anche un esempio della civiltà di Portoferraio perché le piante sono una delle prime cose che bisogna rispettare. Scusate se vi sono dilungato morto, arrivederci alla prossima puntata.